Per la regione c'è questa mozione contro il pagamento di aria C nel weekend? Sì, però questo dà un po' la misura di come la regione intenda il tema dell'autonomia, è proprio sintomatico. L'autonomia per la regione Lombardia vuol dire avere più potere, più risorse. Io l'ho letto mille volte, uno dei motivi per cui questa riforma non funziona è che non si considerano per niente gli interessi, la voce, le potenzialità delle città. E Fontana mi ha sempre detto sì sì ma poi arriveremo, ma non arriveremo mai. Questi vogliono totale autonomia e vogliono schiacciare un po' le grandi città, per cui io credo che Milano non si va proprio a mettere i piedi in testa da nessuno.